Siamo nel backstage, lui è l'uomo dei backstage, sai che di tanto mi casca l'occhio lì, se poi me lo restituisci dopo, dopo lo cerco, dopo lo dico in diretta, dopo lo dico in diretta Siamo nel backstage, la prima puntata con Frecchi, direi che è andata benissimo, in più abbiamo un ospitone Giuseppe Brigadieci, l'avete sentito, per chi non l'ha sentito, diciamolo anche di andare a cercare sul canale YouTube Giuseppe Brigadieci, oppure sul gruppo Giuseppe Brigadieci cantante, oppure sul profilo canzone Giuseppe Brigadieci e vi sorprenderà, facciamo spegnere anche le ultime, quindi che dire, la puntata sta per finire, ne siamo qua, abbiamo ancora 10 minuti, questo lo vedete sul nostro canale YouTube di Good Morning Rock, regalateci un mi piace, un condivido, vi do il mio IBAN per mandare i soldi, mi prego perché sono disoccupato mi piace, un'ora un'ora, un'ora, un'ora di unico IBAN, comunque ringraziamo che San Alberto non c'è fu di nuovo, for music tv, yeah, e Good Morning Rock, basta adesso, basta che ti ricchiò a tutti, basta che ti ricchiò